Domenica l'apporto dei nostri tifosi è stato fondamentale, ci hanno spinto da inizio alla fine anche dopo il gol subito, sono stati sempre vicini a supportarci e è stata la spinta fondamentale per la nostra rimonta. Giocare davanti a 25 mila persone è veramente un pubblico da Serie A e personalmente non mi era mai capitato in carriera, è un'emozione unica e penso che per tutti sia un motivo in più, una spinta in più per dare sempre il massimo. Il mio primo gol di Rosaneso è stato veramente speciale, farlo davanti ai miei genitori che era la prima volta che veniva al Barbera è stato ancora più bello, lo dedico a loro e soprattutto a mia moglie che è sempre presente, sono stato contento di averlo fatto davanti alle persone per me più care. Il fatto che ci siano stati dieci marcatori diversi in sette gare, è un motivo per cui tutta la squadra può dare una mano per fare gol non solo gli attaccanti e questo è quello che ci chiede il mister durante la settimana, che tutti possono essere protagonisti non solo in fase offensiva ma in fase difensiva, tutti hanno diversi compiti, tutti possono dare una mano alla squadra. Dopo la partita di domenica abbiamo subito una sfida importante a Modena e vogliamo chiudere bene questo ciclo di partite ravvicinate per poi lavorare duramente nella sosta e compattarci ancora di più come è stato nel mese precedente. Conosciamo molto bene il Modena, è una squadra molto forte, si è rinforzata molto quest'anno, ha cambiato tanto anche l'allenatore, propone un calcio molto propositivo, dovremmo prepararla bene come abbiamo sempre fatto, lavorare da oggi fino a sabato e ci faremo trovare pronti, daremo al massimo. Sappiamo bene che il nostro obiettivo è quello di essere competitivi per la Serie A, faremo di tutto per rimanere nelle parti alti della classifica fino alla fine ma sappiamo che dobbiamo lavorare duro ogni giorno per farlo, non si può fare solo a parole ma è il campo che poi deciderà dove potremo arrivare. Dopo il mercato estivo e tanti nuovi arrivi sappiamo che in squadra c'è molta competizione, tutti i 22 giocatori sono molto forti, il livello degli allenamenti infatti è molto alto e chiunque gioca, chiunque ha giocato e giocherà ha dimostrato e dimostrerà di essere all'altezza e tutti possono dare il proprio contributo, sia partendo all'inizio che entrando, abbiamo visto in diverse occasioni che entrando anche dieci minuti, i giocatori forti cambiano le partite. È successo a Mancusa d'Ascoli, ad Aurelio Domenica quindi anche in pochi minuti si può essere decisivi a dare un contributo alla squadra. Il centro sportivo nuovo di Torretta sicuramente è un'arma in più per tutti perché quando si ha tutto a disposizione si lavora meglio, si riesce a stare più tempo insieme, facciamo colazione, pranzo insieme, stiamo tanto tempo insieme, questo è anche più facile per creare un gruppo solido e poi personalmente penso che sia veramente un posto unico in Italia sicuramente perché è un posto che ti mette veramente serenità, si sta molto bene e penso che quando poi i lavori saranno tutti finiti sarà veramente un'arma in più per la società. Il City Football Group è fatto sempre sentire molto presente, molto vicino alla squadra fin dal ritiro e questo penso che sia motivo di orgoglio per tutti quelli che fanno parte sia della squadra che di questa società, ne siamo orgogliosi e dobbiamo continuare a lavorare per rendere orgogliosi tutti. L'ambientamento qui a Palermo sta procedendo molto bene, sono qui con mia moglie Federica, ci stiamo trovando davvero bene, la gente è molto calorosa, è molto bello girare per la città, ci piace molto Mondello e il mare quindi per noi è veramente un posto magnifico.